Il tempo stringe il Pescara entro metà settimana dovrà annunciare il nome del nuovo tecnico e a questo proposito sono rientrati in città sia il direttore dell'area tecnica Giorgio Repetto che il neodirettore sportivo Peppe Pavone, i quali in giornata si incontreranno con la proprietà per parlare dei papabili alla panchina bianca-azzurra. I due direttori dovranno riferire al presidente Daniele Sebastiani e all'amministratore delegato Danilo Iannascoli l'esito degli incontri e le loro impressioni sugli allenatori. I rumor si indicano sempre come favorito Marco Giampaolo, il tecnico Giuliese Piace a Repetto e Pavone che se fosse stato per loro avrebbero già chiuso la trattativa. Evidentemente invece c'è qualche titubanza nella stanza dei bottoni sull'allenatore di Bellinzona che è reduce da alcune stagioni non proprio positive. Giampaolo tecnicamente non si discute ma la società vuole analizzare bene ogni aspetto per non sbagliare e non ripetere la fallimentare stagione appena conclusa. Oltre a Giampaolo, allontanatosi il romeno Lusescu, tra i nomi accostati al Delfino ci sono quelli di Beppi Pilon e Marco Baroni, quest'ultimo reduce da un campionato stellare con la Virtus Lanciano. Da questo terzetto dovrebbe uscire il nuovo condottiero del Delfino. Il Pescara cerca un tecnico che sappia lavorare con i giovani perché, oramai è chiaro, si punterà tutto sulla linea verde e questo conterà non poco sulla scelta del successore di Cersei Cosmi. Intanto in settimana dovranno essere concretizzate le prime operazioni in entrata con gli arrivi dell'attaccante Riccardo Improta dal Padova, Aliso Ue e Victor Da Silva dal Chievo. A Lanciano invece è ormai questione di ore per l'ufficializzazione del nuovo allenatore dei frentani Roberto D'Aversa che avrà a disposizione Fabrizio Paghera riscattato a titolo definitivo dal Brescia. Il centrocampista in vacanza in Spagna si è detto ansioso di mettersi al lavoro con D'Aversa, ma il neotecnico avrà ai suoi ordini anche la vecchia guardia rossonera, il capitano Carlo Mammarella e poi Amenta, Troesta, Redità, Aquilani, Vastola, Di Cecco, Piccolo e Turchi che resteranno al 99,9% al pari di Branescu, Tiam e Nunzella appena riscattati. Il DS Leone comunque punta a rinforzare la squadra dei Maio e per questo ha visionato decine di giocatori soprattutto giovani, sparsi in Serie B e nelle categorie minori oltre che nelle primavere. E proprio da una di queste, cioè la primavera della Juventus, potrebbero arrivare tre giovani di belle speranze, il difensore Filippo Romagna classe 97, il centrocampista del 95 Gerbaudo e l'attaccante marocchino classe 96 Benu.